Amici, sapete cos'è questo? Questo è un LM1117, un regolatore di tensione lineare detto anche LDO. È in grado di funzionare con una tensione differenziale di ingresso e di uscita ridotta. I regolatori di tensione LDO possono offrire una risposta rapida ai transienti e un'ampia gamma di tensione in ingresso, una corrente di riposo bassa e una bassa luminosità con un PSR elevato. Ha una corrente di uscita massima di 1,5A e un voltaggio di uscita di 3,3V.